Ciao ragazzi da Magic Boy! Ciao mamma! Ciao Steffi! Farai da camera lady! Pesante, eh? Abbastanza! Ok, partiamo con il gioco! Ai venti commenti, ragazze, spiegazioni in categoria Gold Si fanno dei mazzetti, così i mazzetti a casa Così si vedono bene, no? Ora, come funziona il tutto? Ce la fai e riesci a mettere a fuoco? Sì, 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 almeno spero In questo primo mazzetto dimmi stop quando vuoi tu Stop! Sicura? Sì Ok, il resto di carta non ci interessa, togliamo In questo mazzetto dimmi stop quando vuoi tu Stop! Sicura? Sì Ok, abbiamo due mazzetti già fatti, giusto? Sì Qui abbiamo adesso altri due mazzetti Allora, cosa facciamo? Spostiamo questi due mazzetti così E di questo prendiamo sopra, sotto, sopra e sotto Vedi? In maniera casuale E stessa cosa facciamo di questo Sopra sotto, sopra sotto, sopra sotto, sopra sotto Giusto? Ci serve in qua tutto casuale Prendiamo i mazzetti così Tutte carte, non sappiamo niente Perché tutto al caso tu mi hai fermato dove volevi, giusto? Ora la cosa interessante è che guarda Ho preso quattro carte Da un mazzo regolare di carte, giusto? Stai d'accordo? E' interessante sapere che sono le quattro donne E' un altro Ci serve in prima Ora la facciamo il video Libero E' un'imitaria